ciao a tutti ragazzi ben ritrovati nel mio spazio video oggi vi parlo di nuovo di balance in special modo vi voglio dare un consiglio che è una cosa che io faccio praticamente molto spesso quasi sempre quando mixo in special modo quando sto creando il rough mix iniziale ci sono delle situazioni in cui non sempre mi arriva tra virgolette un materiale con un buon balance ok quindi mi capita spesso a volte che io debba rifare il balance e debba ridare delle posizioni cosa faccio mi piace fare questa cosa che mi aiuta molto tutto ciò che è mono lo lascio pannato al centro ok e tutto ciò che è stereo lo lascio ovviamente stereo lascio praticamente i pan nelle loro posizioni quindi o total left total right o totalmente al centro quindi prima di andare a creare spazio tramite il pan cerco di creare un equilibrio con il balance ragazzi il bilancio mente veramente molto 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 importante oserei dire che dal mio punto di vista è il 50 60 per cento del mix tanti sottovalutano questa parte ma questa parte è veramente una parte molto molto importante del mix tramite questo appunto si decidono i piani sonori decide anche la distribuzione delle frequenze nello spettro perché in base appunto i bilanciamenti quindi alzare o abbassare per esempio gli elementi che appunto vanno a lavorare sulle basse frequenze così facendo si può decidere la quantità di basse che vengono date al totale del mix idem con gli strumenti che occupano la fascia media idem con gli studenti che occupano la fascia alta quindi capite che anche tramite il bilanciamento si inizia già a bilanciare tutte le informazioni spettrali che poi sono comunque importantissime per l'equilibrio del mix quindi prima di pannare vi consiglio appunto di fare un buon bilanciamento lasciando i pan come sono anche in posizioni asettiche a volte addirittura lo faccio anche in mono questo lavoro qua poi una volta che ho un buon bilanciamento e il mix mi suona già bene allora a quel punto inizia a pannare leggermente voi pensate che tanti anni fa non esistevano non esisteva neanche lo stereo cioè si faceva quasi tutto in mono io ascolto dei dei mix dei primi sì degli anni dopo gli anni 30 gli anni 40 dei mix mono che sono fantastici sono talmente bilanciati bene che comunque danno una sensazione comunque di linearità e di grande profondità anche quindi non avendo i pan e anche avendo un mix in mono tramite un accurato bilanciamento si riusciva ad avere comunque un mix che all'ascolto risultasse molto interessante bene provateci e vedrete che vi aiuterà molto comunque durante la fase di mix come sempre vi ricordo che essendo ancora in estate sono ancora attivi summer sale su improve your mix c'è sono dei corsi ogni settimana c'è un corso scontato del 50 per cento andate a fare un giro e niente buon mix a tutti e ci vediamo al prossimo video ciao ciao